Buongiorno, mi chiamo Giacomo Sivelli e sono uno studioso di evoluzione. Con questo video intendo chiarire alcune questioni riguardanti l'evoluzione biologica che sono state sollevate dal filosofo Valentino Bellucci e da Massimo Mazzucco nella puntata di ControTV intitolata Il Dogma di Darwin. Prima di tutto bisogna chiarire una cosa. Un conte parlare di evoluzione. Un conte parlare della teoria che la scienza ha adottato per tentare di spiegare il processo evolutivo. Seppure la distinzione tra questi due concetti possa sembrare scontata, in realtà spesso l'evoluzione viene messa sullo stesso piano o addirittura identificata con la teoria neodarwiniana. Questo è profondamente sbagliato perché non si può confondere un fenomeno naturale con la teoria che tenta di spiegarlo. Il processo di modificazione dei viventi può essere paragonato a qualunque altro fenomeno fisico o biologico che l'uomo sia in grado di osservare direttamente o di cui si debba limitare a studiarne gli effetti come ad esempio la rotazione terrestre, il movimento delle placche tettoniche, la circolazione sanguigna, la crescita corporea, lo sviluppo embrionale, la guarigione da una malattia, eccetera. Questi sono soltanto alcuni esempi dei molteplici fatti che, al pari dell'evoluzione, caratterizzano la nostra esistenza e la realtà che ci circonda. Dubitare del processo evolutivo sarebbe come mettere in dubbio un qualunque altro evento ormai acclarato dal momento che le prove a suo favore sono innumerevoli ed inconfutabili. Altra cosa invece sono le spiegazioni dei meccanismi che stanno alla base del loro funzionamento. A questo punto si passa dalla semplice osservazione del fenomeno al tentativo di descriverne le cause e le modalità di attuazione. Attraverso spiegazioni, ipotesi e teorie formulate dagli studiosi. Tuttavia, se da un lato esistono numerosi processi naturali, i cui meccanismi sono stati ormai ampiamente spiegati e dimostrati scientificamente, dall'altro ve ne sono ancora parecchi che non beneficiano di spiegazioni sufficientemente convincenti e robuste. In questo secondo caso le spiegazioni sono basate infatti su delle teorie fragili, delle semplici ipotesi o su delle speculazioni. L'evoluzione biologica rappresenta un caso analogo a quest'ultimo. Vale a dire, si tratta di un fenomeno naturale la cui oggettività non può essere messa in discussione, ma che tuttavia non ha ancora ricevuto una spiegazione del tutto convincente. È noto infatti che la teoria neo-darwiniana o teoria sintetica dell'evoluzione presenta grosse criticità e genera perplessità anche all'interno della comunità scientifica. Le difficoltà della teoria sintetica dell'evoluzione hanno favorito il diffondersi di svariate tesi anti-evoluzionistiche, alcune basate sui testi sacri, mentre altre ben più recenti, ma non per questo meno fantasiose. Confondere il fenomeno evolutivo con la teoria neo-darwiniana fa gioco soprattutto agli anti-evoluzionisti, che in tal modo possono addossare al principio dell'evoluzione le critiche e le obiezioni che scaturiscono da tale teoria. Io sono perfettamente d'accordo con Valentino Bellucci e con Massimo Mazzucco quando affermano che la complessità della vita va molto oltre una lunga serie di combinazioni casuali. D'altra parte devo controbattere quando Bellucci utilizza l'esempio della complessità di un batterio o dell'ala di un insetto per sostenere che gli organismi e le loro strutture non possono essersi formati semplicemente attraverso un'evoluzione progressiva. In realtà entrambi i casi da lui citati, così come qualsiasi altro esempio che osserviamo in natura, si spiegano perfettamente attraverso una graduale modificazione da forme più semplici. D'altra parte l'evoluzione biologica procede esattamente in questo modo. Ad esempio l'ala degli insetti potrebbe essersi evoluta a partire da una struttura che inizialmente sarebbe servita soltanto a fare dei piccoli balzi ed in seguito brevi voletti, come oggi possiamo osservare ad esempio nelle cavallette. Oppure che avrebbe permesso di compiere delle planate, come negli attuali dermotteri e nelle oleocertole volanti. D'altronde abbiamo una documentazione fossile piuttosto cospicua relativa all'origine dei primi uccelli, che ci testimonia una graduale transizione avvenuta proprio in quest'ultima maniera. A tal riguardo è interessante notare che nell'immenso mondo degli insetti, che conta un numero enorme di specie, è possibile che esistano ancora alcune varietà che documentino o suggeriscano il cammino evolutivo compiuto dalle loro ali, dalla condizione in cui erano del tutto assenti, a quella di completo sviluppo. Le ali degli insetti, nella loro mirabile perfezione, derivano da strutture ugualmente perfette, ma che probabilmente dovevano avere una funzione differente, rispetto a quella che avrebbe assunto in seguito. L'evoluzione infatti procede elaborando nuove strutture adattative, a partire dal materiale che ha a disposizione, e che lungo il cammino evolutivo, oltre a cambiare morfologia, cambia di frequente anche funzione, pur mantenendo sempre lo stesso grado di perfezione. Tengo a ribadire il fatto che la struttura da cui si è evoluta l'ala non era assolutamente imperfetta, come asserito erroneamente da Bellucci, anche se ancora non era diventata ala. Essa infatti doveva risultare ugualmente perfetta, tuttavia era probabilmente più semplice, e non aveva esattamente la stessa funzione che assunti in seguito allo sviluppo dell'ala. Le strutture semplici e quelle complesse possono avere lo stesso grado di perfezione, ciò che le differenzia è unicamente il livello di complessità o di specializzazione. Tengo a precisare questo concetto poiché una delle critiche all'evoluzionismo sollevate durante la trasmissione Il dogma di Darwin è stata proprio quella relativa alla questione della presunta imperfezione delle forme meno evolute. Quest'ultimo principio infatti non è corretto e non rientra tra i fondamenti dell'evoluzionismo. Nessuno può affermare ad esempio che una spugna di mare sia imperfetta, anche se paragonata ad un uomo. È semplicemente meno complessa, ma comunque perfettamente adattata alla vita che la spugna conduce. Un ottimo esempio di evoluzione lente e progressiva da una forma ad un'altra ci viene fornito dallo straordinario cammino che ha portato alla comparsa dei vertebrati terrestri. È ormai un fatto acclarato che gli arti degli anfibi si sono originati dalle pinne di un gruppo di pesci e, come è ovvio pensare, sia le pinne di questi pesci che gli arti degli anfibi possono essere considerati come strutture perfette. Ma non è tutto, perché quel particolare gruppo di pesci, prima di dar vita ai tetrapodi, ha originato diverse forme di transizione che, a loro volta, erano anch'esse perfettamente adattate al loro habitat di transizione. Dunque, la struttura in questione ha cambiato forma e funzione nel corso dell'evoluzione, pur mantenendo lo stesso grado di perfezione in ciascuna forma di transizione. Lo stesso discorso si potrebbe fare riguardo all'arto del cavallo. La zampa di questo magnifico animale, infatti, è perfetta e straordinariamente adattata alla vita nelle praterie. Tuttavia, è del tutto erato pensare che questa struttura non possa essersi formata attraverso un'evoluzione lenta e progressiva. In realtà, anche le forme precedenti al singolo zoccolo erano perfette, tuttavia erano adattate ad un ambiente e ad uno stile di vita un po' differenti rispetto a quelli degli odierni cavalli. Un parente stretto del cavallo è infatti il tapiro, che peraltro è molto più antico degli equini, e presenta quattro dita nell'arto anteriore e tre in quello posteriore. Certo, non si può dire che il tapiro sia imperfetto, soltanto perché meno prestante del suo giovane cugino cavallo. È semplicemente adattato ad un ambiente diverso, cioè all'habitat della foresta, nel quale l'arto del tapiro risulta più efficiente rispetto allo zoccolo del cavallo. L'antenato del cavallo doveva essere simile proprio ad un tapiro, che col cambiamento delle abitudini di vita ed il graduale abbandono della foresta per spazi più aperti, iniziò ad evolvere delle caratteristiche più adatte al nuovo ambiente di vita. Dunque, l'antenato del cavallo era perfetto, esattamente come lo stesso cavallo. Per questo motivo, il discorso di Valentino Bellucci relativa alle lingue arcaiche e alla loro perfezione non dimostra alcunché. Anche il canto delle balene o degli uccelli infatti è perfetto. Ciò non toglie che il linguaggio umano, per quanto complesso possa essere, debba necessariamente derivare da quello degli ominidi, che a sua volta si originò dai versi con i quali le scimmie comunicano. Anche la scrittura degli antichi, analogamente al loro linguaggio, si sviluppò da forme meno complesse di comunicazione e nel caso specifico della scrittura essa derivò da un numero limitato di simboli, come hanno potuto comprendere gli studiosi di paleoscritture. L'evoluzione della scrittura umana a partire da semplici simboli rappresenta un ottimo esempio di come questo fenomeno proceda e ci suggerisce che il processo di modificazione dei viventi non riguarda soltanto la biologia di una specie, ma si ricollega anche ad altri importanti aspetti della realtà. Anche le varie strutture che costituiscono i batteri, ovviamente, non sono apparse ad un colpo, ma si sono evolute da forme più semplici, attraverso un graduale aumento della loro complessità. Faccio riferimento ai batteri poiché, durante la trasmissione di Massimo Mazzucco, è stato mandato in onda un filmato nel quale veniva presentato il concetto della cosiddetta complessità irriducibile, applicato in quel contesto alla struttura di un batterio. La tesi della complessità irriducibile proposta dal creazionista Michael B., afferma che i sistemi biologici, dipendendo dall'interazione di molte parti, tutte indispensabili, non si sarebbero potuti formare attraverso una lenta evoluzione, ma dovrebbero necessariamente essere stati progettati ed assemblati tutti insieme in una sola volta. Questa concettura, tuttavia, non scalfisce minimamente il principio dell'evoluzione, che al contrario può dimostrare senza alcuna difficoltà e con innumerevoli prove ed esempi che la complessità dei sistemi biologici si sta evolvendo gradualmente da oltre un miliardo di anni. A tal riguardo, bisogna in primo luogo osservare anche per rispondere a Mazzucchi Bellucci, che il principio dell'evoluzione non ammette che una struttura o un organo di un essere vivente possa apparire improvvisamente, autonomamente e già completamente formato. Al contrario, le varie parti di un sistema biologico si evolvono nella loro complessità in maniera armonica tra loro, dal momento che tutte le strutture di un organismo sono intimamente collegate tra loro. Dunque, gli evoluzionisti non sostengono affatto che un batterio possa vivere anche senza una sua parte. Il processo evolutivo, infatti, non prevede questa situazione. Le strutture dei batteri, così come quelle di ogni altro essere, si evolvono gradualmente ed in sintonia con l'intero organismo in un lento crescendo di complessità. Per comprendere meglio l'infondatezza della tesi della complessità irriducibile possiamo rapportarci all'evoluzione degli organismi superiori che avviene in maniera analoga a quella dei batteri. Nel momento in cui, ad esempio, l'antenato del cavallo simile ad un tapiro intraprese il lungo cammino evolutivo che l'avrebbe portato a diventare un cavallo, iniziò a modificare non soltanto le zampe ma quasi ogni singolo carattere morfologico del proprio corpo per adattarsi in misura crescente al nuovo ambiente. Quindi, nel corso di milioni di anni, tutti i suoi caratteri in maniera armonica e correlata tra loro iniziarono a modificarsi e ad adattarsi alle cambiate condizioni di vita. Se invece il suo antenato fosse rimasto a vivere nella foresta, probabilmente non sarebbe cambiato di molto come appunto è accaduto al tapiro. Aggiungo che comunque talvolta il processo evolutivo agisce invece semplificando certe strutture o riducendole. Va quindi in una direzione opposta a quella che ci si è soliti attendere. Questo è, ad esempio, il classico caso degli occhi della talpa che in seguito all'adattamento ad un habitat sotterraneo si sono gradualmente ridotti fino a scomparire del tutto. La stessa sorte è toccata a diversi invertebrati che vivono nell'oscurità delle caverne. La graduale atrofia di determinate strutture divenute inutili a seguito delle cambiate abitudini di vita porta alla formazione dei cosiddetti organi rudimentali cioè alle vestigia di strutture che un tempo furono perfettamente funzionanti. Per concludere la spiegazione alla questione della complessità irriducibile è rappresentata dalla gradualità con cui ciascun organo ciascun organismo e ciascuna specie nella propria complessità armonicità ed unitarietà si evolve. E le prove dell'infondatezza di questa tesi creazionista sono date dai molteplici esempi di evoluzione progressiva in nostro possesso. Esempi di un'evoluzione graduale progressiva da una forma ad un'altra certo non mancano anzi sono eccezionalmente numerosi. Tali esempi a loro volta rientrano in quel vastissimo bacino di fonti che rappresenta l'insieme delle prove dell'evoluzione. Alcuni tra gli esempi più esplicativi e meglio documentati di questa evoluzione progressiva possono essere la transizione dai vertebrati acquatici a quelli terrestri che racchiude già in sé un grandissimo numero di modificazioni e adattamenti progressivi, l'evoluzione degli uccelli che come è noto si originarono a partire da un gruppo di dinosauri arboricoli, l'evoluzione dei cetacei che discendono da una creatura terrestre attraverso diverse forme intermedie quella dei proboscidati degli equini dei sirenidi e di tanti altri mammiferi placentati e marsupiali. La stessa gradualità progressiva si osserva anche nell'evoluzione dell'uomo ed è documentata da numerose forme di transizione vale a dire gli australopitechi e i successivi ominidi. Altri esempi di progressività possono essere dati dal nanismo insulare per il quale elefanti ed ippopotami così come molte altre specie esiliati su delle isole mediterranee come ad esempio Sicilia, Sardegna, Creta, Malta e Cipro si sono gradualmente rimpiccioliti fino a raggiungere le dimensioni di una pecora. Viceversa parecchi insetti ma anche diversi mammiferi uccelli e rettili sempre isolati su delle isole hanno raggiunto dimensioni notevoli come ad esempio le blatte del Madagascar i varani di Komodo le tartarughe delle Galapagos e l'istinto coniglio gigante di Minorca. Per finire con un esempio celebre vorrei citare lo stesso Darwin che nella propria autobiografia riguardo alle diverse specie di fringuelli osservati sulle isole Galapagos parlò di perfetta gradazione nelle dimensioni del becco delle diverse specie. I casi di evoluzione progressiva appena citati costituiscono delle importanti prove dell'evoluzione per cui vale la pena riprenderne qualcuno e trattarli in maniera più approfondita. Relativamente alla transizione dai vertebrati acquatici a quelli terrestri è interessante notare fin da subito che alcuni tra i primi rappresentanti di questo straordinario evento sono tuttora viventi. Seppure la cosa possa sembrare singolare in realtà i casi di organismi che sono rimasti inalterati per molti milioni di anni dopo la loro comparsa costituiscono la regola e non l'eccezione. Non bisogna infatti pensare che poiché le specie possono evolvere allora debbano necessariamente evolvere tutte in ogni tempo e luogo. Le cose infatti non funzionano così. Una specie in base a particolari fattori può evolvere in un'altra specie oppure restare inalterata anche per parecchi milioni di anni. Ad esempio il Nautilus un raro mollusco che vive nelle profondità oceaniche è pressoché uguale a come era circa 500 milioni di anni fa vale a dire il periodo in cui sul nostro pianeta esistevano soltanto gli invertebrati. Questo fatto viene spesso utilizzato ingenuamente da coloro che rifiutano di accettare il principio dell'evoluzione per tentare di screditare tale principio. Tuttavia essi non si rendono conto che questa è esattamente la normalità. Molte specie cioè dopo la loro comparsa smettono di evolvere mentre altre proseguono il cammino evolutivo. Dunque ancora oggi esistono alcune creature estremamente primitive ovvero dei veri e propri fossili viventi che rappresentano al tempo stesso prove viventi degli stadi evolutivi iniziali che condussero alcuni pesci ad evolvere nei primi anfibi. queste straordinarie forme di transizione appartengono a due piccoli gruppi di pesci chiamati rispettivamente dipnoi e polipteridi che rappresentano un miscuglio di caratteri propri di pesci ed anfibi. I dipnoi e polipteridi sono creature antichissime comparsa all'incirca 400 milioni di anni fa nel Devoniano periodo in cui i pesci iniziarono ad emergere dalle acque e giunte pressoché immutate fino a noi. Questi insoliti pesci sono caratterizzati dalla presenza di due apparati respiratori uno branchiale ed uno polmonare. Essi vivono in acque soggetti a periodici prosciugamenti che erano comuni anche nel Devoniano durante i quali si rifugiano nella melma scavando cunicoli che comunicano con l'esterno per mezzo di piccole aperture. A questo punto i dipnoi e polipteridi che a differenza di tutti gli altri pesci possiedono veri e propri polmoni iniziano a respirare direttamente l'aria esterna e sono in grado di sopravvivere anche a lunghi periodi di siccità. Le sacche polmonare di queste forme di transizione si sviluppano da un diverticolo della parete ventrale faringea proprio come avviene nei tetrapodi e hanno la medesima morfologia e struttura dei polmoni degli anfibi. I dipnoi polipteridi sono gli unici pesci a presentare una prima separazione tra la circolazione sanguigna generale e quella polmonare. Con lo sviluppo di speciali arterie e vene polmonari che si completerà successivamente negli anfibi. Il sistema respiratorio e il sistema circolatorio di questi pesci polmonati sono nel loro complesso strettamente somiglianti a quelli degli anfibi orodeli. Un fondamentale carattere che accomuna i dipnoi agli anfibi e agli altri vertebrati terrestri è la presenza di coane cioè di fosse nasali che si aprono all'esterno tramite le narici e che comunicano con il tetto della cavità orale. Questo è uno dei caratteri distintivi dei tetrapodi. Tutti gli altri pesci sono sprovvisti di tale struttura e presentano fossette nasali esterne non comunicanti con il cavolo orale. Il legame evolutivo esistente tra dipnoi ed anfibi si evince anche dalla somiglianza dei loro cervelli più complessi rispetto a quelli degli altri pesci e dei loro cuori in virtù di un setto interatriale comune a tutti i tetrapodi ma assente nei pesci non polmonati. A tal riguardo è interessante notare che le larve degli anfibi presentano invece un cuore più simile a quello degli altri pesci. I dipnoi e polipteridi possiedono pinne carnose sostenute da robuste articolazioni che permettono loro di muoversi sulla terraferma. Tali pinne presentano una struttura scheletrica interna formata da ossa omologhe a quelle degli altri dei tetrapodi e rappresentano dunque una sorta di prima bozzo delle membra. Un recente studio ha dimostrato che il polipterus membro dei polipteridi è in grado di rigenerare la pinna pettorale con estrema accuratezza mentre prima si riteneva che la capacità di rigenerazione completa degli arti fosse una prerogativa esclusiva degli anfibi orodeli. Da un altro studio è emerso che l'evoluzione molecolare dei geni relativi ai pigmenti visivi presenti nella retina dei dipnoi e di altri vertebrati indica una più stretta correlazione tra i pigmenti di dipnoi e anfibi rispetto a quelli degli altri pesci. Altri ricercatori prendendo in esame l'albumina ovvero la più abbondante proteina presente nel plasma dei vertebrati hanno scoperto che nei dipnoi questa proteina ha caratteristiche più simili all'albumina dei tetrapodi che non a quella dei pesci. I polipteridi presentano due ampie aperture situate in cima al cranio denominate spiracoli che utilizzano per respirare l'aria. Tale struttura la ritroviamo anche nelle forme di transizione estinte quali ad esempio l'ostenopteron il gogonasus il panderectis il tictalic il ventastega la cantostega e l'ictiostega. Negli anfibi gli spiracoli persistono soltanto allo stadio larvale mentre nell'adulto così come negli altri tetrapodi sono diventati parte dell'orecchio medio. Tra le numerose affinità che collegano i polipteridi ed ipnoi ai tetrapodi c'è anche la struttura dei denti. Questi pesci polmonati infatti sono gli unici a possedere lo smalto dentale. Un ulteriore importante carattere in comune con gli anfibi è rappresentato dal fatto che i dipnoi e i polipteridi sono gli unici pesci a compiere la metamorfosi proprio come gli anfibi. Inoltre le loro larve risultano pressoché identiche a quelle degli anfibi orodeli con ciuffi branchiali esterni e ramificati. Sono affine anche alle larve degli estinti labirintodonti ovvero i tetrapodi più primitivi. Questi importanti caratteri in comune ci suggeriscono che tali creature rappresentano uno straordinario esempio di anello di congiunzione per altro vivente tra il gruppo dei pesci e quello degli anfibi. Le successive fasi evolutive che condussero all'origine dei primi tetrapodi ci vengono testimoniate dai fossili di numerose forme di transizione estinte quali ad esempio il chenictis l'osteolepis l'ostenopteron il gogonasus il panderictis il tictalic il ventastega l'acantostega e l'ictiostega a questo punto potrei descrivere dettagliatamente tutte le caratteristiche di queste affascinanti creature per poter illustrare in maniera chiara ed inequivocabile i vari passaggi di questo straordinario evento tuttavia penso che questo non sia il momento adatto per entrare così nello specifico ma ricorda Bellucci e Mazzucco che tali informazioni potranno essere rese loro in qualunque momento lo desiderino in questo momento mi limiterò soltanto a mostrare l'immagine di alcuni dei passaggi evolutivi che hanno condotto la pinna a tramutarsi in arto un'ulteriore testimonianza di questa transizione è rimasta impressa anche nel nostro organismo e possiamo apprezzarla ogni qual volta avviene una fecondazione nelle prime fasi dello sviluppo embrionale infatti ciascuno di noi attraversa lo stadio in cui possiede branchie e coda proprio come i nostri antenati acquatici un altro eccezionale esempio ampiamente documentato di progressiva evoluzione da una forma ad un'altra è relativa all'origine dei cetacei anche in questo caso sarebbe necessario dedicare all'argomento un adeguato approfondimento tuttavia non essendo questa la sede opportuna per una trattazione esauriente passerò in rassegna soltanto brevemente le principali forme e alcune delle loro caratteristiche salienti l'antenato dei cetacei era un mammifero terrestre delle dimensioni di un lupo che presentava un muso molto allungato zampe corte e una lunga coda questa creatura nota come Pachicitus aveva una dentatura composta da denti anteriori aguzzi e molari triangolari caratteristici anche dei suoi discendenti marini un'importante caratteristica del Pachicitus riguardava l'orecchio interno le cui peculiarità sono condivise unicamente dai cetacei dal Pachicitus si evolse successivamente l'Ambulocetus che era del tutto simile al suo antenato seppure lungo circa 3 metri con un muso ulteriormente allungato e zampe più corte assomigliava ad un coccodrillo pur essendo stato un mammifero ed era legato ad un ambiente di vita analogo a quello del grosso rettile l'Ambulocetus infatti presentava adattamenti sia all'ambiente terrestre che a quello acquatico ad esempio grazie alla particolare struttura dell'orecchio interno affine a quella delle balene poteva udire i suoni mentre era immerso in acqua lo stadio evolutivo successivo fu rappresentato dai protocetidi che vissero alcuni milioni di anni dopo il Pachicitus le sembianze generali rimanevano quelle del loro predecessore l'Ambulocetus tuttavia avevano evoluto un adattamento più spinto alla vita acquatica gli arti di questi animali soprattutto quelli posteriori si erano ridotti ulteriormente e in alcune specie erano probabilmente già diventati incapaci di sorreggere il peso del corpo sulla terra ferma le narici dei protocetidi avevano iniziato a migrare verso la parte posteriore del cranio e le orecchie erano ben adattate all'ambiente acquatico il completo affrancamento dalla vita terrestre fu raggiunto successivamente dal Dordone questo cetaceo preistorico aveva mantenuto funzionali soltanto gli arti anteriori trasformati in pinne mentre quelli posteriori erano ormai quasi rudimentali lungo 5 metri aveva narici a metà del cranio e non presentava ancora lo sfiatatoio organo respiratorio dei cetacei la dentatura era ancora simile al pachycetus un altro cetaceo primitivo meglio adattato all'ambiente marino rispetto alle forme precedenti fu il basilosauro lungo quanto una balena circa 18 metri fu inizialmente considerato erroneamente un retile preistorico come se vince dal nome che gli diede il primo studioso che se ne occupò questo mammifero dal corpo notevolmente allungato presentava un cranio di modeste dimensioni se rapportato alla molle del corpo gli arti anteriori erano trasformati in grandi pinne mentre quelli posteriori erano molto piccoli e forse vestigiali le narici non erano ancora spostate dietro la schiena come nelle balene moderne e la dentatura era arcaica come nei suoi predecessori il trend evolutivo che contraddistinse gli antenati dei cetacei fu dunque caratterizzato da un progressivo adattamento all'ambiente marino un ulteriore passo in avanti in questa direzione fu compiuto dagli squallodontidi il cui aspetto generale era abbastanza simile a quello di un delfino la scatola cranica di questi antichi cetacei più affine ai delfini che non ai loro antenati presenta tracce della comparsa dell'ecolocalizzazione il sonaro utilizzato dai cetacei moderni inoltre avevano evoluto lo sfiatatoio l'organo respiratorio dei cetacei tuttavia altri caratteri degli squallodontidi erano ancora arcaici come la dentatura con grossi molari triangolari e seghettati e denti distanziati inoltre possedevano un collo molto più corto dei loro predecessori ma ancora mobile rispetto ai delfini nei mari dell'oligocene oltre agli squallodontidi viveva un altro cetaceo arcaico il huaipatia che era più evoluto rispetto ai suoi contemporanei cioè più simile ad un delfino attuale la particolare struttura del cranio di questo animale suggerisce che fosse provvisto di melone l'organo che nei cetacei odierni rende possibile l'ecolocalizzazione i denti erano aumentati di numero e si erano rimpiccioliti rispetto agli squallodontidi risultando dunque più affini a quelli dei delfini il huaipatia inoltre possedeva lo sfiatatoio a partire dalla fine dell'oligocene e durante il miocene si volsero le prime forme strettamente imparentati ai delfini moderni i centriodontidi le caratteristiche morfologiche dei centriodontidi erano ormai molto affini a quelle dei loro discendenti moderni e così pure la loro distribuzione geografica presentavano sfiatatoio melone e denti più piccoli rispetto al huaipatia possono dunque essere considerati gli antenati più prossimi dei delfini la documentazione fossile relativa all'evoluzione dei cetacei ci fornisce quindi un ottimo esempio dell'oggettività di questo processo ci mostra le diverse forme di transizione che hanno portato una creatura terrestre ad evolvere negli attuali cetacei ed infine dimostra tutta l'inconsistenza della tesi creazionista della complessità irriducibile sebbene vi sarebbero innumerevoli altre prove da esporre per questione di tempo non posso permettermi di presentarle alla luce di questi fatti Valentino Bellucci e gli altri anti-evoluzionisti dovrebbero persuadersi che il processo evolutivo non può essere messo in discussione le uniche critiche che invece possono essere sollevate sono quelle relative alla teoria evolutiva attuale che come ho già detto presenta effettivamente una fragilità di fondo Bellucci prosegue poi il dibattito dicendo ovvio che è stata progettata la vita lo diceva Voltaire Newton e io aggiungo certo il progettista è proprio l'evoluzione giorno dopo giorno o quanto meno l'esecutore in seguito spiega che una volta avvenuta la rottura tra scienza e chiesa è sorta l'idea che lo scienziato per essere tale non doveva concedere nessuno spazio all'idea di un'intelligenza nella natura per paura di dover ammettere che avesse ragione la religione anche a mio parere la scienza sbaglia in questo d'altra parte sbaglia anche la religione negando l'evidenza dell'evoluzione delle specie riguarda la contrapposizione tra scienza e religione o spiritualità desidero osservare che in ogni caso l'oggettività del processo evolutivo non implica affatto che non possa esistere anche Dio ovviamente la scienza deve poter spiegare ogni singolo fenomeno naturale in maniera logica e razionale d'altra parte se l'esistenza di Dio non è stata dimostrata scientificamente allo stesso modo non è stata provata neppure la sua assenza attraverso il processo di modificazione dei viventi abbiamo potuto comprendere come si siano originati tutti gli esseri che popolano il nostro pianeta ma ciò non comporta in alcun modo che non possa esistere ugualmente anche Dio la Chiesa e i creazionisti quindi si sbagliano a scagliarsi contro l'evoluzionismo perché esso non si traduce in alcun modo in ateismo sarebbe meglio invece che si persuadessero di questa realtà e non si burlassero di un fenomeno che nell'ottica di un credente sarebbe stato ideato proprio da Dio a questo punto vorrei rivolgere una domanda provocatoria proprio ai creazionisti per sapere se davvero pensano che un Dio creatore non sarebbe stato capace di concepire un processo che avrebbe permesso la formazione della magnifica biodiversità presente oggi in maniera del tutto logica e razionale pensano forse che Dio non sia un'entità logica e razionale il mondo fisico non è forse retto da leggi di questo tipo dunque perché la vita non dovrebbe esserlo sarebbe troppo complicato per Dio concepire un simile meccanismo o faceva apparire tutti gli esseri viventi in un istante o non poteva fare altro sono davvero così limitate le capacità e l'ingegno di Dio non penso proprio e mi sembra strano che i creazionisti non ci abbiano ancora pensato dunque in realtà scienza e religione o meglio spiritualità non risulterebbero affatto incompatibili tra loro non per niente fu lo stesso Darwin a dichiarare nella propria autobiografia di non essere mai stato ateo allo stesso modo sarebbe auspicabile che anche il legame tra scienza e filosofia si rinsaldasse come in origine in modo tale che questi due campi del sapere collaborassero assieme alla ricerca della verità un'altra osservazione che devo fare a Bellucci riguarda una sua successiva affermazione egli infatti parla di una minoranza di scienziati che a suo modo di vedere ha avuto il coraggio di rifiutare questa ideologia riferendosi all'evoluzionismo poi cita due studiosi Sermonti e Fondi io ho potuto ascoltare un'intervista a questi due scienziati e sinceramente mi sono cadute le braccia loro infatti negano del tutto l'evoluzione e fanno dichiarazioni completamente assurde riguardanti questo processo tanto è vero che vengono intervistate da dei sostenitori del creazionismo ad esempio Roberto Fondi peraltro paleontologo dice che i fossili non dimostrano nessuna evoluzione anzi mostrano che le specie appaiono perfettamente formate questo significa negare l'evidenza è come negare l'eliocentrismo o per essere più attuali è come sostenere che la terra è piatta dunque portarli come esempi di paladini della verità mi sembra del tutto fuori luogo peraltro Bellucci cita spesso Roberto Fondi esaltandone la posizione assunta nei riguardi dell'evoluzione tuttavia le affermazioni antievoluzioniste di questo paleontologo vanno contro a quanto sostiene invece compattamente tutta la comunità scientifica supportata da innumerevoli prove provenienti dalle più diverse discipline dunque Bellucci dovrebbe farsi qualche domanda circa l'attendibilità delle tesi creazioniste di Fondi anche l'affermazione del sociologo Jean Servier riportata nel libro del filosofo Bellucci e menzionata da Massimo Mazzucco è tutt'altro che condivisibile la citazione infatti recita quanto segue la chela del gambero l'occhio della mosca o l'apparato di volo del maggiolino sono realizzazioni perfette che non hanno bisogno di nessun miglioramento e delle quali non si può tracciare l'evoluzione l'evoluzione è un dogma un falso scientifico questo pensiero è frutto di una totale mancanza di conoscenza da parte del Servier di ciò che concerne l'evoluzione non è assolutamente vero infatti che non si possa tracciare l'evoluzione delle strutture da lui citate certo per poterlo fare bisogna essere dei filogenetisti specializzati in artropodi e non certo dei sociologi l'evoluzione non è falsa falsa piuttosto mi spiace dirlo è questa sua dichiarazione dunque a questo punto la frase di Bellucci nessuno ha mai visto delle specie trasformarsi in qualcos'altro non ha bisogno di ulteriori commenti d'altronde lo stesso Bellucci avendo studiato filosofia e sociologia non può di certo avere una conoscenza adeguata del processo evolutivo capisco che questo principio abbia delle ripercussioni su tutti i campi del sapere e dunque anche sulla filosofia e la sociologia tuttavia prima di dare giudizi affrettati su un argomento che non si è mai studiato in maniera approfondita bisognerebbe pensarci due volte le lacune di Bellucci sull'argomento evoluzione infatti sono palesi a tal riguardo vorrei fargli presente che il tema relativo alle caratteristiche puramente estetiche di una specie che a suo modo di vedere non si sarebbero potute formare per evoluzione è stato trattato proprio dallo stesso Darwin in un volume ad esso dedicato intitolato L'origine dell'uomo e la selezione sessuale in quest'opera il grande naturalista spiega appunto che i caratteri morfologici che rendono appariscenti ed attraenti gli individui di una qualunque specie come ad esempio i pavoni maschio sono sottoposti ad una pressione selettiva diversa da quella che agisce invece sugli altri caratteri fenotipici le caratteristiche estetiche infatti non sono legate strettamente alla sopravvivenza dell'individuo quanto piuttosto alla ricerca di un partner la pressione selettiva che agisce su questo genere di caratteri è stata denominata da Darwin selezione sessuale e talvolta va in una direzione opposta all'azione della selezione naturale un altro importante tema su cui Bellucci sbaglia in maniera grossolana è quello relativo ai primi organismi pluricellulari comparsi sul nostro pianeta egli infatti afferma che le creature del Cambriano come ad esempio i trilobiti furono i primi esseri macroscopici con strutture elaborate ad essere apparsi sulla terra in realtà è noto già da tempo che nel precambriano cioè prima dell'esplosione cambriana visse una comunità di organismi pluricellulari complessi ancora più primitivi nota come fauna di etiacara che presumibilmente dio di origine alle forme del Cambriano è con ogni probabilità da questa comunità di creature enigmatiche che proviene l'antenato dei trilobiti che diversi studiosi hanno indicato in un essere noto come spregina dunque i trilobiti così come qualunque altro animale mai vissuto sulla terra non si sono ritrovati l'occhio bello che formato per incanto ma lo hanno evoluto a partire dai loro antenati in un altro passaggio bellucci se la ride sostenendo che gli scienziati stiano ancora cercando l'ominide e che non riescano a trovarlo riferendosi all'antenato comune tra lo scimpanzè e il genere uomo poi aggiunge che non c'è esempio di evoluzione in nessuna specie dal momento che la conoscenza di bellucci riguardo al principio dell'evoluzione appare così superficiale gli faccio notare a proposito di ominidi che anche la transizione dalle scimmie antropomorfe all'homo sapiens è documentata da numerosissimi reperti fossili anche questi reperti fanno parte di una messa in scena attuata dagli scienziati di mezzomondo a questo punto mi verrebbe da dire che non c'è peggior cieco di chi non vuole vedere sono sicuro tuttavia che se bellucci avesse la voglia e l'umiltà di mettersi ad esaminare le molteplici prove dell'evoluzione che sono ormai alla portata di tutti potrebbe capire in brevissimo tempo grazie al suo vivace intelletto che le tesi degli anti-evoluzionisti sono del tutto fantascientifiche e le loro obiezioni sono come la neva e il sole un'altra osservazione che dovevo fare a bellucci riguarda il concetto del cosiddetto DNA spazzatura capisco che in un momento di furore anti-darwiniano abbia pensato che ogni possibile colpa scientifica sia da scrivere agli evoluzionisti tuttavia volevo soltanto precisare che questo termine ovviamente non è stato coniato dagli evoluzionisti quanto piuttosto dai genetisti ovvero coloro che studiano il DNA e che così spesso lui stesso cita per rispondere invece alla domanda di Massimo Mazzucco cerca l'esistenza di un manuale che contenga la storia evolutiva complessiva del regno animale dagli organismi onicellulari fino ai vertebrati alla quale domanda bellucci ha prontamente risposto in senso negativo ci tenevo a fargli sapere che in realtà tale manuale esiste e viene utilizzato nel corso universitario di sistematica e filogenesi animale tuttavia considerando l'immensa mole di materiale che tale argomento necessita il volume in questione non può di certo considerarsi esaustivo tuttavia suggerisco comunque a bellucci di leggerselo quando invece sempre bellucci ricorda che nessuno è riuscito a creare la vita in laboratorio come se ciò portasse contro il principio dell'evoluzione non considera che il problema della nascita della vita non si collega direttamente a tale principio il passaggio dalla materia inanimata a quella animata deve aver implicato dei meccanismi diversi da quelli che sono subentrati una volta che è nata la vita così come la conosciamo quindi il fatto che gli scienziati non abbiano ancora compreso come sia nata la vita sulla terra non ha alcuna ripercussione sul principio dell'evoluzione semplicemente perché tali questioni costituiscono due argomenti a sé stanti probabilmente infatti la vita si è sviluppata dalla materia inorganica mediante un meccanismo diverso da quello che permette alle specie di evolvere comunque si è stato possibile che da un batterio nel corso di miliardi di anni attraverso un processo logico e razionale se si è giunti fino all'uomo non vedo perché il passaggio dalla materia inanimata a quella capace di riprodursi in maniera autonoma debba essere invece avvenuto in un modo irrazionale e soprannaturale d'altronde è lo stesso filosofo Bellucci a gettare un ponte tra questi due mondi apparentemente così distanti quando ci spiega che un importante fisico che lavorò con Einstein David Bohm riteneva che ci fosse un'intelligenza anche a livello atomico e che il medesimo concetto fosse già stato espresso dai Purana Hindu a tal riguardo vorrei sottolineare che comunque anche in questo caso la spiegazione scientifica sull'origine della vita non si ripercuoterà in nessun modo sulla possibile esistenza di Dio a questo punto vorrei rivolgere una domanda a Valentino Bellucci egli riportando il pensiero di Kant afferma che noi non possiamo capire come Dio ha progettato e se l'evoluzione fosse proprio il suo strumento per concludere vorrei ricordare che il principio dell'evoluzione implica che tutti gli esseri viventi ed in particolar modo gli animali discendono da un progenitore comune e sono quindi in una certa misura imparentati tra loro questo legame universale tra tutti i viventi ha in sé uno straordinario significato etico e filosofico e dovrebbe far riflettere maggiormente quella creatura che ha nelle proprie mani le sorti di tutte le altre un progenitore che ha avere un progenitore